buonasera a tutti e ben ritrovati nuovamente sul canale buon lunedì e buon inizio settimana oggi parliamo di tex e più nello specifico parliamo del bis di tex che da qualche giorno a questa parte potete trovare in edicola al prezzo di 4 euro e 40 è il quarto dei cinque bis che sono stati annunciati dalla sergio bonelli ritore come potete vedere dalla quarta di copertina finora sono già usciti quello di natan never quello di dylan dog e quello di zagor di cui ho parlato anch'io resta da parlare di quello di dragonero che dovrebbe già essere uscito ma almeno nella mia zona non sono ancora riuscito a trovare ormai tutti quanti insomma credo sappiano a memoria di questa iniziativa della bonelli di far uscire nel mese di luglio quindi in quello in cui solitamente si legge maggiormente delle pubblicazioni extra relative a quelle che dovrebbero essere le principali testate una scelta che non mi trova assolutamente d'accordo poiché da questa iniziativa sono state esclose le testate di giulia di dampier e di martin mister e questo è un po come promuovere indirettamente alcune serie a testate di serie a e relegare invece altre pubblicazioni a testate di serie b quindi differenziarle in per quanto riguarda la loro importanza scelta secondo me assolutamente sbagliata ma entriamo un po più nello specifico analizziamo questo albo che si intitola agente indiano e di cui voi potete subito ammirare la bella copertina di claudio villa che è una copertina evocativa di quello che poi effettivamente andremo a vedere nel nel corso di questa avventura vedete questo cielo dalle tinte arancio sulle qua sul quale si stagliano le figure di tex di tiger jack e del giovane kit willer e poi sul sullo sfondo diciamo sulla parte inferiore della copertina con questi toni freddi tra l'altro bellissima la contrapposizione tra toni caldi e toni freddi questa cavalleria di di soldati insomma questa batteria di soldati molto molto bella come copertina ad opera ovviamente di claudio villa soggetto sceneggiatura di mauro boselli per disegni del fantastico maurizio dotti per una storia che pesca dal passato poiché un gruppo di banditi insomma cinque banditi tentano di assaltare il trading post di lorenzo abel un messicano che appunto gestisce questo questo trading post come potete vedere dalle dalla prima vignetta dalla prima tavola scusate di questa storia ai margini della riserva navaglio abel è un vecchio amico di tex e compagni che intervengono sventando questa rapina e una volta messisi diciamo a tavola per la cena tex decide di raccontare al figlio kit come è avvenuto il primo incontro fra lui e abel e come lo stesso tex è diventato agente indiano e questa storia non ha grandi collegamenti con avventure precedenti però se gli vogliamo insomma trovare un filo conduttore si basa diciamo su una vecchia avventura classica di tex contenuta a partire dall'album numero 51 della serie regolare ovvero sangue navaglio nel quale album nel quale iniziava una storia che proseguiva anche sul numero 52 guerriglia e da quello che mi ricordo anche sul numero 53 che però non ho sotto mano una storia che io ho letto molto tempo fa e non ho riletto in occasione di questo bis un'avventura nella quale si scopriva che tex oltre ad essere il capo della tribuna vaio sotto il nome di aquila della notte era anche il loro agente indiano l'agente indiano semplificando molto dovrebbe essere una sorta di mediatore fondamentalmente che appunto agisce per i diritti per per i diritti della della tribù insomma per le necessità ecco riferisce le necessità al governo no fondamentalmente quindi agisce come di fatto una sorta di 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 mediatore non si era però mai saputo come tex fosse diventato agente indiano come avesse fatto appunto per entrare per per arrivare a questa carica e ci viene spiegato in questa storia dove ci viene insomma un po rivelato scopriamo insomma che prima di tex a ricoprire tale tale ruolo era un uomo dalla dubbia moralità ecco diciamo un uomo che agiva tutto sommato per lo schifini e io non vi dico ovviamente come questa storia va a finire come vedete vi ho dato appena così un accenno di trama ma insomma direi che abbastanza facile immaginare chi possa uscirne vincitore da una storia di tex non credo che ci sia che sia così difficile immaginarlo ad ogni modo è una storia molto carina molto interessante che si può leggere anche senza aver letto la storia originale assolutamente che peraltro viene solo così fugacemente menzionata nel finale quindi è quasi come addirittura nell'ultima nell'ultima tavola si si fa un velocissimo riferimento a questa avventura quindi è quasi come se non fosse collegato ad alcunché questo albo di tex che attraverso diciamo questa questa storia nella quale comunque compaiono vari personaggi sia per quanto riguarda i flashback raccontati da tex che per quanto riguarda gli avvenimenti che si svolgono nel presente offre comunque anche se vogliamo degli spunti di riflessione sempre attuali tutto sommato no perché c'è un po il razzismo nei confronti delle minoranze e qui vediamo la la popolazione navajo quindi il popolo navajo trattato veramente malissimo dai dei soldati che agiscono per conto del governo quindi ci ci sono delle delle degli spunti diciamo di riflessione che possiamo tranquillamente trasporre anche nella nostra realtà ecco e è interessante vedere come più che altro ecco ecco è interessante come la testata di tex il il fumetto proprio di tex wheeler abbia sempre preso le difese degli indiani anche in tempi non sospetti no fondamentalmente perché oggi comunque arriviamo da film revisionisti da anni di film revisionisti come quelli di peckinpah come quelle di arthur penn insomma che hanno un po ribaltato il mito degli indiani ovviamente balla coi lupi e quant'altro ma non dobbiamo mai dimenticarci che tex è nato nel 48 nel pieno western classico no quindi quello fordiano in cui gli indiani erano quasi sempre bollati come anzi fondamentalmente sempre bollati come i cattivi no con l'eroe di turno che fosse john wayne piuttosto che randolph scott o chiunque altro che li inseguiva li li combatteva e centrava in conflitto no quindi da da ombre rosse a sentieri selvaggi tutti i grandi western classici hanno sempre inevitabilmente messo dalla parte del torto fondamentalmente gli indiani dipingendoli come gli invasori come i cattivi come i selvatici quando in realtà si può dire che sia stato quasi l'esatto opposto insomma sono stati i cowboy no i bianchi ecco ad invadere gli indiani d'america che poi sono i veri americani poiché erano sono proprio quelli di l'etnia americana è costituita dagli indiani dagli indiani d'america il resto sono tutti europei o quant'altro ecco che che poi sono arrivati si sono insediati con la forza in in america nel corso dei vari secoli per cui tex è sempre stato dalla parte degli indiani è una caratteristica che molto spesso viene dimenticata diciamo passa in sordina di questo personaggio no molti tendono a bollare tex come un fumetto estremamente semplice privo di grandi significati con un eroe tutto sommato poco caratterizzato perfetto in in qualsiasi in qualsiasi aspetto in qualsiasi sfumatura quando in realtà il fumetto di tex già in partenza aveva una una profondità niente affatto scontata soprattutto per l'epoca in cui in cui è nato oltre a ciò c'è una sceneggiatura come al solito ben eseguita da parte di boselli e ci sono dei disegni fantastici ad opera di maurizio dotti che io vi mostro subito maurizio dotti come sappiamo è uno dei più apprezzati disegnatori texiani nonché l'attuale copertinista di della della testata di tex wheeler maurizio dotti fa dei veri e propri capolavori sul sul con sulle copertine di tex wheeler sono delle copertine fantastiche meravigliose e da qui mi viene da dire che se questo se questo tex bis fosse stato a colori secondo me sarebbe stato meraviglioso con i disegni di dotti con la colorazione proprio eseguita dallo stesso dotti questi bis li potevano fare a colori ecco sarebbe stato un modo per renderli veramente veramente speciali e non è stato fatto ma in ad ogni modo i disegni di dotti sono veramente meravigliosi ci sono delle espressioni fantastiche qua vediamo tex notate anche il gioco di luci no perché molte delle sequenze raccontate in questa avventura si svolgono di notte e i disegni di dotti risultano sempre molto luminosi anche nelle ambientazioni notturne i volti secondo me di dotti sono fantastici sono veramente meravigliosi guardate con quale realismo lui riesce a realizzare i personaggi fantastico anche il modo di di tracciare le ombre senza risultare troppo pesante senza appesantire i volti e veramente sono dei disegni semplicemente fantastici veramente molto realistici quindi in piena tradizione texiana qui vedete un altro bellissimo primo piano di tex e sono delle tavole che veramente si fa si si leggono con piacere anche per merito anche e soprattutto direi per merito dei dei disegni di dotti guardate appunto quello che vi dicevo prima no quanto le varie vignette risultano comunque luminose nonostante siano ambientazioni notturne cariche di di ombre e poi vedete queste bellissime secondo me espressioni fantastiche no questi giochi di luce meravigliosi e insomma guardate ancora queste espressioni e poi ci sono anche delle scene delle scene di azione come potete vedere in questo caso o anche poi nel nel corso della storia insomma ci saranno più sequenze d'azione le classiche sparatorie anche che vengono secondo me realizzate alla perfezione dal grandissimo maurizio dotti per cui sotto il punto dei disegni è un albo veramente magnifico faccio ancora notare questi bellissimi paesaggi ecco oltre a saper disegnare delle delle figure umane grandiose dotti è efficace anche per quanto riguarda i paesaggi e guardate questo qui c'è compare anche la pioggia per cui secondo me è resa e reso magnificamente questo temporale e poi guardate anche con quale con quale insomma con quale efficacia ecco viene raffigurata la carovana piena di particolari insomma è veramente un ottimo lavoro dal punto di vista grafico queste sono tavole sulle quali ci si sofferma sempre molto volentieri dotti secondo me è uno degli artisti più quotati tuttora in azione sulla testata di tex cosa dire di questa storia è molto bella molto scorrevole nonostante a volte Boselli esageri con i dialoghi qui secondo me questo problema non c'è una storia che scorre via bene anche perché ci sono delle sequenze interamente mute come potete vedere all'inizio quando appunto assistiamo al tentativo di assalto da parte di questi banditi del trading post di lorenzo abel per cui secondo me da quel punto di vista è una storia ben dosata è una storia però che secondo me può risultare veramente interessante solo a chi abitualmente legge la testata di tex perché pur non avendo dei riferimenti appunto con le avventure precedenti salvo quel fugace così quella fugace citazione collegamento al al numero 51 è una storia incentrata però su un aspetto che secondo me potrebbe risultare poco interessante ad un neofita che quindi si approccia per la prima volta a tex leggendo questo albo perché io non credo che chi vuole provare tex per la prima volta sia interessato a come lui è diventato l'agente agente indiano per la tribuna vaio quindi è una storia che in questo senso mi sentirei di consigliare solo a chi abitualmente legge il personaggio di tex e quindi potrebbe giustamente insomma desiderare di venire a conoscenza di come effettivamente tex sia diventato un mediatore insomma sia diventato appunto l'agente indiano della della tribuna vaio è apprezzabile il diciamo questo albo no per unire i tasselli per fornire una spiegazione a quel a quel passaggio che non era mai stato chiarito che quindi era risultato oscuro in quel senso però forse chi chi si avvicina per la prima volta tex con questa storia potrebbe quasi risultare annoiato da da una tematica che comunque risulta meno avvincente rispetto alle solite tematiche che magari possiamo trovare su tex quindi non lo so banditi in fuga piuttosto che indiani piuttosto che mefisto ecco diciamo che non è la tematica più adatta per come la vedo io per attirare dei dei neofiti e in questo senso io non sono ancora riuscito a capire bene il senso di questi bis perché anche prendendo in considerazione gli altri di cui abbiamo parlato finora quindi nato never zagor e dylan dog alcuni di questi bis sono risultati secondo me particolarmente adatti a chi si vuole inserire per la prima volta nelle testate di questi personaggi è il caso del del bis di dylan dog e del bis di zagor che secondo me presentano delle storie molto indicate da quel punto di vista ma altri bis come ad esempio quello di nata never si rivolgono ma in questo caso anche questo di tex si rivolgono più a chi già abitualmente segue queste testate e questi personaggi quindi se devo essere sincero sono un po in difficoltà nel nel comprendere quale effettivo senso abbiano questi queste pubblicazioni bis detto questo io credo di non aver null'altro da aggiungere circa quest'albo in seconda di copertina ci viene pubblicizzato il color tex che noi troveremo in edicola credo a partire sì dal 6 agosto tra l'altro ci viene anche insomma descritto fondamentalmente questo questo color tex nell'editoriale e ad opera di graziano frediani che troviamo a modo di introduzione un color tex che presenterà una storia unica quindi di 160 pagine una storia molto interessante almeno stando a quanto recita l'anticipazione presente sul sito della sergio buonale editore unico grande vincolo il prezzo anche questo color tex sarà di 7 euro e 90 e come credo che lo saranno anche tutti gli altri color che arriveranno in edicola abbiamo già visto il dumpier color al prezzo veramente limitativo di 7 euro e 90 veramente molto molto esagerato per come per come la vedo io bene detto ciò io concludo la mia così chiacchierata riguardante questo numero se l'avete letto fatemi sapere come l'avete trovato se anche voi siete della mia idea nel reputare questo numero più adatto a chi abitualmente segue il personaggio di tex oppure se credete che questo albo possa essere anche interessante per chi ci si approccia per la prima volta detto questo io vi ringrazio per l'ascolto come sempre e vi auguro un piacevole proseguimento di serata ci vediamo a voi piacendo al prossimo video ciao